Giri d'affari da milioni di euro che riguardavano grosse partite di rame e di fitofarmaci e telefoni criptati da ritirare di persona. Questioni talmente delicate da spingere l'ex direttore amministrativo di ASM Pietro Antoniazzi a consegnare un foglietto con direttive precise al cognato Sascha Raunig durante una visita in carcere. Un clamoroso risvolto svelato dalle carte dell'inchiesta che sta tentando di fare luce sul furto da 2 milioni di euro dalle casse di ASM Pavia. È il 4 novembre del 2015 quando Antoniazzi, arrestato qualche settimana prima, il 16 ottobre, incontra in carcere a Torre del Gallo il cognato Sascha Raunig. Al termine del colloquio l'ex contabile della municipalizzata Pavese estrae un foglietto dalle mutande e tenta di consegnarlo a Raunig, venendo però scoperto dalle guardie. All'interno ci sono istruzioni dettagliate, circa alcune operazioni milionarie, da condurre con l'aiuto di un notaio già arrestato in Spagna nel 2011 per una presunta frode. La prima riguarda un cambio euro-dollari, un'operazione dal valore complessivo di 5 miliardi di euro, che avrebbe garantito ad Antoniazzi e al cognato una commissione da 10 milioni da versare su un conto cifrato in Svizzera. La seconda direttiva contenuta nel foglietto è invece riferita alla vendita di 12.500 tonnellate di rame, con precise indicazioni su società e deposito da utilizzare. Ma gli affari sono diversificati e infatti la terza operazione riguarda la vendita alla buyer di 12.500 tonnellate al mese di fitofarmaci, in sostanza pesticidi e diserbanti, per un volume d'affari stimato in 20 milioni di euro mensili. Ai due, scrive Antoniazzi, sarebbe rimasta una fetta dell'1,5% sul totale. Transazioni affari, ma anche un telefono da ritirare. Nel foglietto scoperto dalle guardie, l'ex contabile di ASM chiede al cognato di procurarsi un apparecchio per lui attraverso il solito notaio, non un telefono qualsiasi, ma uno criptato da ritirare a Varese e che nel frattempo potrà utilizzare lo stesso Raunig.